La provincia non ha tra le delle e le responsabilità la parte legata al sociale, in questo momento ci sono risorse del personale che fanno parte delle opportunità che venivano investite sia di lavoro che di responsabilità pesanti sulla rendicontazione. Io credo, visto purtroppo lo stato in cui la riforma del Rio ha ridotto le province, di concentrare il personale a disposizione per le priorità. La provincia di Arezzo ha così detto addio allo Sprar, l'ente ha infatti deciso di interrompere l'adesione al sistema di protezione ai richiedenti asilo e rifugiati, seguendo di fatto la scelta del comune di Arezzo e quello di Montevarchi guidato dalla stessa Chiassai. Riferisco in questo momento di criticità dell'ente, investire quindi il personale a disposizione, che è meno della metà di quello che l'ente aveva, per le deleghe ufficiali che ci sono state lasciate. Quindi sicuramente per aiutare tutto ciò che riguarda il mondo della scuola, della programmazione scolastica e poi per quanto riguarda la sicurezza e il controllo per gli edifici e per la viabilità. La provincia dal 2020 dunque non sarà più l'ente capofila per gli otto comuni che aderiscono al progetto triennale 2017-2019. In totale sono oltre 2 milioni e 200 mila euro i fondi che l'ente provinciale gestisce e rendi conta legati allo Sprar. Arrivano direttamente al Ministero degli Interni, quindi finito il progetto, finiti i fondi, poi ci sarà un altro ente che andrà al posto della provincia e porterà avanti il progetto Sprar. Tra le polemiche che si sono mosse in questi giorni ci sono coloro che hanno definito un percorso di legalità quello all'interno del sistema Sprar. Ma io parlo da sindaco, se questo sistema fosse quello, potesse permettere una maggiore tranquillità e legalità penso che i nostri non cittadini avrebbero qualcosa da ridire in merito perché non mi sembra che purtroppo le nostre città siano così sicure nonostante questi progetti siano diffusi su tutto il territorio. In questo caso si parla però unicamente di rifugiati politici? No, in teoria le persone fanno richiesta, vengono appunto accolte nel progetto, poi durante i tempi molto lunghi, troppo lunghi, aggiungo, di valutazione si viene a valutare se la persona che richiede l'asilo ne ha diritto oppure no. Quindi succede, come i dati ministeriali ci forniscono, che in moltissimi casi, una percentuale altissima di questi richiedenti, poi in realtà non hanno diritto all'asilo ma sono richiedenti economici.